notizie in un clic punto com è una testata giornalistica online con informazione a livello nazionale e locale notizie in un clic punto com pubblica fatti non opinioni notizie in un clic punto com la notizia giusta per te ciao a tutti io sono loredana e vi do il benvenuto nel nostro canale di youtube notizie in un clic visto il successo ottenuto all'interno del mio portale di informazione notizie non clic punto com la sezione di educazione finanziaria ho pensato di pubblicare in maniera cadenziata dei video che ne trattano l'argomento i temi trattati li potete trovare nel libro lessico finanziario scritto dal professor beppe ghisolfi edito da aragno una visione rating di beppe ghisolfi è un giudizio di valutazione classificazione si dà sulla solidità degli stati sulle obbligazioni di una società e sulla società stessa coloro che emettono questi voti sono le agenzie di rating il giudizio di queste agenzie avviene con una certa periodicità e può scatenare eventi imprevedibili facciamo un esempio se una società riceve un voto molto basso perché è considerata troppo indebitata le azioni di quella società subiranno un crollo gli azionisti cercheranno di vendere le loro azioni le banche non concederanno più prestiti con conseguenze disastrose i voti bassi insomma non portano a nulla di buono e con questo noi abbiamo finito domani parleremo di recessione eccessione